26 anni che siete qui e come sta andando oggi? L'inizio è stato un pochino lento, adesso c'è un bel flusso di gente, sì. Il bello della fiera, commercialmente parlando, è il mattino e poi sulla sera dopo le 9, quindi dopo poi andiamo un po' in pausa. Però va bene, va bene, ci accontentiamo, post-covid va bene. Infatti soprattutto c'è questo, poi il bello di ritornare. Infatti, infatti. C'è ancora già tanta gente con le mascherine, anche perché appunto questo covid qua è sempre dietro l'angolo, però... Da dove viene? Bergamo. Ah, da Bergamo. Da Bergamo, da Bergamo. Già da questa mattina presto tantissima gente, tanta voglia di vedere occasioni, di tanti incontri fra la gente proprio, quindi positivo riscontro assolutamente, già da prima mattina. Quindi bella atmosfera, belli anche gli affari? Sì, assolutamente, ho visto che la gente è proprio invogliata, nonostante il periodo un attimino particolare, però la gente guarda la qualità. Stamattina ha notato questo. Come sta andando, insomma? Va bene, dai, c'è, il flusso c'è, il tempo per adesso è bello, quindi speriamo vada avanti così. E poi c'è il bello di poter tornare finalmente a tempo pieno, diciamo. Dopo due anni di chiusura, anche l'anno scorso è stata un po' cotigentata, quindi meno male che siamo trovati la normalità, dai. Grazie. 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 Grazie.